Siamo con l'ingegner Vito Mauro, lei ha tantissima esperienza nel settore e nella struttura della missione del Ministero. Pensi che questo MAS sia una missione? Ebbè certo, è una missione anche ambiziosa e non dico faticosa, piacevole perché stiamo montando un qualcosa che può servire nei prossimi anni a tutti. Quanto è importante il suo ruolo per il MAS? Il mio è stato uno dei promotori di questo ruolo, un ruolo di squadre che sia ai ministeri sia nelle diverse città ci stanno lavorando. Qual è il suo sogno legato al MAS? Il sogno è di vedere che questa struttura che stiamo mettendo in piedi arrivi a conclusione nei tempi previsti che sono stretti e impegnativi e poi serva. Un'ultima domanda e poi la lascio, qual è secondo lei la città più complicata per sviluppare il MAS? Tutte le città italiane sono complicate, sia le prime tre che abbiamo visto, Milano, Roma e Napoli, sono complicate per ragioni diverse. Ciascuna ha i suoi problemi, le sue dimensioni e le sue difficoltà, quindi non farei una graduatoria da questo punto di vista. Grazie ingegnere, grazie mille. Grazie a voi e arrivederci.